ExoRaptics, oggi vi presento questa fantastica Smart 4x4, 1000 di cilindrata, 71 cavalli. Troviamo subito il surlaterale, cerchi in lega da 15. L'auto è lunga, 3,50 m, è alta 1,55 m e è larga 1,76 m. Per quanto riguarda invece il tagliaio, pur essendo una Smart abbiamo un sacco di spazio con la luce di cortesia sulla sinistra. Nella parte posteriore troviamo questi sedili in tessuto bicolor con l'attacco Isofix su entrambi i lati. Nella parte anteriore invece troviamo subito l'autoradio per gestire la radio e tutti i file multimediali. Subito sotto troviamo invece la gestione del clima, abbiamo un sacco di vani porto oggetto, anche qui dietro un portabibite. Abbiamo il cambio manuale e il freno di stazionamento è manuale. Invece nella parte superiore troviamo il tetto panoramico. Per quanto riguarda il volante abbiamo la gestione delle chiamate e subito sotto il cruise control. L'auto è alimentata a benzina, è stata immatricolata nel marzo del 2016 e ha percorso poco più di 47.000 km. Trovate queste e moltissime altre auto sul nostro sito rattix.com